Paolo Vidali ve lo presento, già docente di filosofia e storia e vicepreside al liceo quadri di Vicenza. Insegna filosofia della scienza e della natura alla facoltà teologica del Triveneto a Padova. È accademico olimpico e docente al master in comunicazioni delle scienze all'università di Padova. Una cena dal re di Cebu, Filippine. Conclusa la pace, lo capitano fece dare una colazione. Poi lo principe e lo re presentarono al capitano, da parte del suo re, al quanti cestoni de riso, porci, capre e galline, e gli dissero li perdonasse perciò che tal cosa erano poche a uno simile a lui. Lo capitano donò al principe uno panno bianco di tela sottilissima, uno bonnet rosso, alquante filze de cristallino e uno bicchier dorato de vetro. Gli vetri sono molto apprezzati in quelle parti. Al re di Mazzana non li dette alcun presente perché già gli aveva dato una veste di cambaglia con altre cose e agli altri a chi una cosa, a chi un'altra. Mandò poi al re de Zebu, per me e un altro, una veste di seta gialla e morella a guisa turchesca, uno bonnet rosso fino, alquante filze di cristallino, posto, ogni cosa, in uno piatto d'argento e due bicchieri dorati in mano. Quando fussimo nella città trovassimo lo re in su palazio con molti uomini, che sedeva in terra sopra una storra de palma. Aveva solamente uno panno de tela de bombaso dinnanzi alle sue vergogne. Uno velo intorno al capo, lavorato a gucchia, una collana al collo, de gran prezio, due schione grande de oro attaccate alle orecchie con pietre preziose attorno. Era grasso e piccolo ed è pinto con lo fuoco a diverse maniere. Mangiava in terra sovra un'altra storra, ovide, bissa, scutellara, posti in due vasi di porcellana e aveva dinanzi quattro vasi pieni de vino de palma, serrati con erbe odorifere e ficcati quattro cannuti. Con uno, ogni di questi, beveva. Fatta la debita reverenza, l'interprete gli disse come lo suo signore lo ringraziava molto del suo presente e che gli mandava questo, non per il suo ma per lo intrinseco amore che li portava. Gli vestissimo la veste, gli ponessimo il bonnet in capo e gli dessimo le altre cose e poi, baciandoli vetri e ponendoli sopra lo capo, le li presentai e facendo lui il simile li accettò. Poi il re ne fece mangiare de quelli ovi e bere con quelli cannuti. Gli altri sui, in questo mezzo, gli dissero lo parlamento del capitano sovra la pace e lo esortamento per farli cristiani. Il re ne volse tener seco a cena. Li dicessimo, non potevamo allora restare. Pigliata la licenza, il principe ne menò seco a casa sua, dove suonavano quattro fanciulle, una di tamburo a modo nostro ma era posta in terra. Un'altra dava con un legno fatto alquanto grosso nel capo con tela de palma in due borchie piccate, uno in l'uno, uno in l'altro. L'altra in una borchia grande col medesimo modo, la ultima con due borchette in mano, dando l'una nell'altra facevano un suave suono. Tanto a tempo suonavano che pareva avessero gran ragione del canto. Queste erano assai belle e bianche, quasi come le nostre e così grandi. Erano nude, se non che avevano tela di arbore della cinta fino al ginocchio. E alcune tutte nude, col picchiettio delle orecchie grande, con un cerchietto di legno dentro, che lo tiene tondo e largo, con gli capelli grandi e negri e con uno velo piccolo attorno al capo e sempre di scalze. Il principe ne fece ballare con tre, tutte nude. Merendassimo e da poi venissimo alle navi. Queste borchie sono de metallo e se fanno nella regione del signo Magno, che è detta la China. Quivi le usano come noi le campane e le chiamano Agon.